Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio condensare in un video unico, perché poi in realtà sono questioni che possono essere anche viste come molto collegabili in qualche modo, per certi versi. E voglio in qualche modo parlare prima del nuovo servizio delle Iene, un altro nuovo servizio delle Iene, e del discorso Covizoc, che chiaramente ha un po' destabilizzato un po' Twitter. Andiamo per ordini, il primo dei argomenti è il nuovo servizio delle Iene. Il solito Filippo Roma ha fatto un altro servizio, questa volta collegato alla decisione del VAR nell'ultima partita, Inter-Juve, in cui c'è stato rigore che Di Balla ha portato a segno. E come sapete la decisione dell'arbitro avviene in un certo modo, il VAR corregge questa cosa qua. Ma bisogna anche dire che c'è stata fatta molta confusione anche sui social, in giro dei vari opinionisti e guru dell'arbitraggio su questa cosa qua. Perché è un po' in tutto l'interpretazione del regolamento, eccetera, eccetera. Perché qualcuno ha detto che l'arbitro Mariani appunto aveva deciso, e avendo deciso in qualche modo non si doveva in nessun modo correggerlo. Se poi guardiamo il regolamento, come dice anche le Iene, se c'è il chiaro evidente errore, oppure se non ha visto fondamentalmente, può intervenire il VAR. Il VAR interviene appunto perché il buon arbitro Mariani aveva visto qualcosa che non c'era, cioè non ha visto che ci fosse un fallo. Infatti da come gesticolo ha visto che anche il modo in cui gesticolo viene preso come prova in realtà fa intendere che lui ha visto tutt'altro. Invece il VAR dice appunto che c'è un contatto su Di Danfri, su Aleksandria e pertanto c'è questo rigore. Al da lì questo le Iene e Filippo Roma, in modo preciso, si soffermano su questa cosa qua, facendo il solito discorso in giro, ricordando gli episodi di Pjanic, ricordando tutti gli episodi che tra l'altro di cui ho parlato anche in precedenti servizi, perché se non sbaglio questo credo sia il terzo servizio in un anno che le Iene fanno sulla Juventus. Ma la cosa più interessante non è tanto andare a discutere sul servizio, su cosa chiedono, sul fatto che sono sulla spocchia, sull'antipatia totale che ho per Filippo Roma e per le Iene, che io spero che chiudano al più presto. Ma la vera cosa che va detta è che con il 7,7% di share, proprio nella puntata in cui parlano di Juventus, forse il problema delle Iene non è tanto quello di informare, di fare inchiesta, anche perché poi si parla di inchiesta, è un video di 8 minuti, un servizio fatto e montato così a casaccio con un po' di immagini. Quando piuttosto il fatto che senza la Juventus, io mi chiedo a molta gente in questo paese che cosa farebbe di lavoro, senza la Juventus quali inchieste farebbero, se non parlando delle tette rifatte dell'una e dell'altra star. Quindi diciamo che da questo punto di vista, anche nonostante il servizio su Juventus, il loro 7,7% di share, che per un problema come le Iene, che faceva ben altri punteggi qualche anno fa, credo che sia abbastanza descrittivo di quella che è la situazione, del perché ogni tanto spuntino queste inchieste, come le chiamano loro, che nulla hanno a che vedere, ad esempio, con le inchieste che le Iene sulle Iene facevano qualche tempo fa, penso a Pablo Trincia, che porta avanti delle cose molto interessanti anche su 60 anni di guerra, penso a Giulio Golia con i servizi sull'autismo, ragazzo Andrea, insomma tante belle cose che le Iene sicuramente hanno fatto, però ovviamente ci sono alcuni di questi inviati, Filippo Roma in primis, che producono della vera merda, perdonate il francisismo, perché di questo si tratta, nulla a che vedere con il giornalismo in inchiesta, nulla a che vedere con un minimo di buona fede anche in quello che si cerca di trasmettere. E poi mi fa strano ovviamente che in questi servizi si parli degli errori solo quando c'è la Juventus di mezza, mezza secondo loro favorita, anche se magari non lo è, e non si parli, e non si tenga in considerazione magari un'altra tipologia di errori provenienti da altre squadre. Questa è la domanda vera e propria, quindi diciamo che sono servizi faziosi e come tali rimangono. Piccolo punto invece su quella che è l'altra nota, stamattina ci svegliamo, ieri stamattina ci svegliamo, e c'è questa cosa qua che l'organismo interno di controllo della FIDC, che è appunto la COVISOC, qualche tempo fa parlavamo della CONSOB, che è un organismo indipendente esterno in materia, non in materia calcistica ma più generale. Questa volta invece fare i conti un po' in tasca ad alcune club di calcio è la COVISOC. COVISOC è un organismo importantissimo perché vigila anche sulla correttezza di quelli che sono gli importi iscritti a bilancio. In realtà la COVISOC dovrebbe fare un servizio ben più importante, che onestamente non penso che sia mai stato fatto, perché dovrebbe anche, un po' come hanno fatto in Spagna con il discorso del Monte Gaggi del Barcellona, che è stato bloccante, cioè dovevano per forza arrivare a quel livello, altrimenti non avrebbero avuto certe cose, insomma hanno dovuto rimediare il loro problema del loro passivo. In Italia la COVISOC onestamente non ho capito bene se fa qualcosa nella realtà, cioè stare a vedere se questi club qua si mantengono entro, un po' come il discorso del FPL finanziario, dentro certi paletti che la COVISOC ha già in passato stabilito. Ma oltre a questo, quello che viene fatto è una ricerca o un'indagine sulle plusvalenze. Ci sono diversi temi da affrontare, la plusvalenza è un tema banalmente a livello di calcolo molto semplice, ma a livello di veridicità e valutazione stessa delle plusvalenze e dei valori di mercato è molto difficile. Mi spiego meglio. Quando parliamo di valori di mercato, il valore di mercato in un calciatore lo fa il mercato, e appunto il mercato, domanda e offerta, quindi Juventus e l'altro club con cui sta trattando quei giocatori in entrato e in uscita. Chiaramente nel momento in cui è in uscita resiste la plusvalenza, nel momento in cui è entrata la plusvalenza lo fa l'altro club. La cosa difficile è che non esiste un valore di mercato, o meglio, il valore di mercato esiste nel momento in cui i due club si accordano su un certo valore. Quindi se io domanda e tu offerta, ci accordiamo su 40 milioni, io registrerò la plusvalenza che devo registrare secondo il calcolo che ho fatto e basta. Il mercato siamo noi, siamo io e voi fondamentalmente. Non esiste un valore di mercato calcolabile, non c'è un tariffario come c'è stato in passato per il vincolo famoso che c'era dei calciatori. Non c'è un tariffario che dica quel calciatore là è attaccante, età compresa tra i 26 e i 28 anni, top al mondo con delle carriereistiche, quindi si possono fare delle stime. Quindi sì, si può dire, beh, secondo me Neymar in questo momento vale 350-160 milioni di connessi per a casa. Ecco, si può fare una stima, cioè secondo me tendo conto del mercato attuale, di quelle che sono le cifre di giocatori corrispondenti rispetto alle cifre recenti e tenendo conto della situazione pandemica, eccetera, 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 e del fenomeno inflattivo che si è un po' deflazionato, possiamo dire più o meno quel giocatore vale X, ma più o meno, ed è una stima. E in quanto stima c'è un errore di base che è compresa stessa la stima. Quindi, appunto, perché non si hanno valori certi, non si può mai dire quando quel valore iscritto a bilancio e quella a plusvalenza, appunto, di conseguenza, sia iscritta in modo corretto o meno. Ecco perché, ad esempio, quando voi, quando voi, non voi, non voi, in generale noi andiamo su Transfer Market, ci sono quelli su Twitter che, questo vale X, questo vale Y, in realtà quelle sono delle stime, tra l'altro stime molto ribasso, perché poi, in realtà, il mercato è sempre stato, negli ultimi anni specialmente, super inflazionato e ha visto tipo le marvi, 122 milioni, quindi per sé anche quelle stime là sono state dovute, sono dovute essere un po' riprogrammate. Quindi, anche quelle stime là sono stime, sono stime di quel sito che viene fatto dai proprietari del sito e dagli utenti che possono discutere sul valore e quindi andare a modificarlo. Ma quello rimane, cioè una stima e basta. Non esistere alcune mani di mercato. Pertanto, per le plusfalenze è difficile, così come è successo tre anni fa con il discorso Inter e Milan, è difficile trovare, se la Juventus ha fatto, ha gonfiato certe plusfalenze e infatti si arrenò quell'indagine su Inter e Milan per questo motivo. Non ci sono dei parametri prestabiliti affinché si possa dire, sì, questa è plusfalenza corretta, no, non lo è. Si potrebbe fare una cosa? Sì, si potrebbe cambiare il sistema. Trovare quindi, mettere dei paletti, dei paletti, dei limiti, dei tetti oltre i quali non si può andare e quindi contenere tutto il raggio d'azione all'interno di un certo tipo di numeri. Questo potrebbe essere una cosa. Giovanni Armanini, che sicuramente conoscete perché lo seguite su Twitter, spesso parla di togliere proprio il valore, cioè la possibilità di capitalizzare i cartellini, quindi togliere i cartellini spesando unicamente all'interno del bilancio solo gli ingaggi annuali, un po' come fanno probabilmente in NBA e altre cose così. Sì, quindi andando a togliere i cartellini vale togliere anche nella voce dell'attivo il valore con cui viene scritto appunto l'asset stesso che è il calciatore del cartellino, insomma il diritto delle prestazioni dei calciatori quando lo si compra. Questa potrebbe essere un'alternativa oppure appunto vigilare dando dei paletti, quindi mantenendo la cosa come è adesso ma dicendo oltre a questa cifra non puoi scrivere quindi devi capire anche te che cifre trattare con le altre parti. In realtà il discorso è che se noi parliamo di plusfalenze gonfiate, qualcuno parla di fittizie eccetera eccetera in linea di massima possiamo dire che lo strumento di plusfalenza è lo strumento più abusato da parte di tutti i club quindi sicuramente da parte di club c'è un abuso di questo utilizzo per cosa? Per sistemare fondamentalmente i conti economici che hanno dei buchi di passivi importanti. Spesso queste cose qua non corrispondono però a una correlazione finanziaria perché poi spesso sono giochi contabili che vanno a gonfiare appunto in qualche modo il conto economico ma non la liquida stessa. Ma la cosa da fare è quindi o capire il sistema oppure adattarsi a quello che sta facendo anche la Juventus al sistema stesso. Se però poi dal punto di vista giornalistico ci viene detto che la Juventus ha plusfalenze gonfiate o fittizie e gli altri no omettendo magari che ci sono anche gli altri che sono messi in mezzo tipo Simen eccetera eccetera beh questa cosa qua mi fa sorcere il naso è un po' il discorso delle Iene cioè sempre puntare il lead solo su uno quando gli altri fanno lo stesso fanno tutti la stessa cosa però si parla solo di Juventus quindi che si parli del problema inteso come problema per tutti in una situazione difficile come quella della pandemia che ha messo i club in ginocchio e quindi gli ha predisposti a fare delle cose che in una situazione normale non avrebbero fatto o che comunque un'azienda normale non andrebbe a fare perché chiaramente starebbe attento alle voci per avere quanto più possibile un bilancio pulito piccola chicca in realtà vi consiglio un video che feci qualche tempo fa quando venne scambiato Zagnolo e Anengola tra l'altro ma non di plusfalenze è gonfiato meno perché lì ci fu feci un ragionamento sul fatto di quando si può parlare di plusfalenza fittizia fittizia nel senso che dietro la plusfalenza si è un gonfiare delle cifre per registrare una plusfalenza più alta e prendi come la vera cosa la plusfalenza vera e propria fittizia vera e propria viene fatta quando non tanto c'è una trattativa tra me e te in cui non si scambia il giocatore ma in cui io ti vendo un giocatore e basta quanto piuttosto del meccanismo della permuta la permuta è quando si scambiano i giocatori quindi Cansello Danilo ed è tra questi nomi qua e tanti altri che conoscete già ok quindi quando c'è uno scambio quindi su due club che hanno entrambi l'interesse di fare plusfalenze lì tendenzialmente si può parlare di preferenza fittizia lì tendenzialmente il sospetto è abbastanza fondato la vera differenza tra un sospetto fondato e una certezza è che non c'è il modo di provare questo sospetto fondato pertanto tutto ciò si va ad allenare come è successo per l'inter e mila tutto qua era una postilla che volevo aggiungere al discorso per darvi l'idea di quello che può essere tendenzialmente una preferenza fittizia più verosimile più non certificabile ma più notevole rispetto ad altre ecco ma poi è un discorso veramente molto molto ampio e molto aleatorio perché il momento prima non ci sono dei parametri per stabilire quanto sia buonfiata la data plusfalenza aspetti i commenti qui sotto quindi per le due questioni viene Covizoc e niente forze come sempre e alla prossima ciao siamo sempre qua storie in bianco e nero dove abbiamo solo un ruolo visto da comparsa ciao a tutti i nostri amici